11 luglio ennesimo albero caduto da ramo ma albero caduto da un albero qui a a largo giovanni chiarini la situazione qua è sempre peggio perché guardate la proporzione con una macchina vicina sì sì ecco siamo qua con alcuni abitanti del luogo facciamo vedere è arrivata adesso l'ennesimo miracolo che non c'era nessuno sotto l'ennesimo miracolo l'ennesimo miracolo guardate qua arriva da qui e occupa una carreggiata della strada e poi c'è qui l'altra parte una vera e propria ennesima vergogna romana